Buon mercoledì, buon appetito, ciao ragazze! Sono pronta per il nostro spazio di mezz'ora per vedere logicamente le novità perché chi si ferma è perduto quindi bisogna sempre cercare, sempre stupire, sempre essere un po' all'avanguardia e farvi vedere anche le tante occasioni che ci sono per affrontare questo inverno che in fondo è appena cominciato quindi vedremo quante cosine belle possiamo ancora goderci e visto che siamo in corsa se non so, ci siamo vestite sempre di nero possiamo dare un tocco di colore al nostro look o addirittura illuminarci tutte con del bianco, con del lavori, con del biscotto e dare una sversata così anche questo è cambiamento, non per forza bisogna cambiarsi il colore dei capelli si può anche cambiare il colore dell'abito che di solito si usa ti dico, ma come mai? Ti vedo con questo colore brillante, ma stai bene, sto benissimo allora, io parto così, non vi faccio perdere tempo voi state attenti anche al padellino nel frattempo perché sennò sento più di bruciato oppure non andate a fare la pipì troppo lunga perché vi beccano di sicuro allora, partiamo subito mi sono presentata con questa borsa appena rientrata che è una delle borse che sta andando di più sia come modello, sia come grandezza è tutta in vera pelle, ci tengo e con questa catena molto leggera che quindi anche quando l'hai indossata a tracolla non vi dà fastidio, non pesa troppo viene 49 euro e ha un leggero sconticino perché vedrete che su alcuni articoli che vi dico li ho appena ricercati perché proprio sono delle richieste nuove e non sono soggette allo sconto del 30% mentre questo cappotto bellissimo è un cappotto giappone in panno verde mi sono presentata col tacco dura poco, godetevi un secondo mio tacco che poi lo abbandoniamo così sono costiccia questo è un giaccone in panno collo scialle, morbidissimo è una taglia M ma potete vedere che veste tanto sia come giromanica che anche come tene come fianchi quindi è molto adattabile pratico ed è un po' originale rispetto ai soliti giacconi o ai cappottoni che magari avete già nell'armadio mi sono presentata con questo nuovo look perché questo fa parte un po' dei nuovi arrivi questa è una gonna in maglina punto Milano c'è S, M e L dopo vi dico il prezzo perché non lo so e il completo se una volesse fare il completo tutto è spessabile è questa maglia un po' stile giacco con questo collo non troppo alto ma ben definito che mi taglia bene è questo fiocco che viene stretto su davanti in canetè ed ha questa morbidezza davanti e segue come se fosse un abito vedete anche dietro che arriva proprio a metà sedere quindi va giù anche abbastanza morbida poi dipende anche da quanto tirate il fiocco questa gonna fa parte dei nuovi arrivi è un punto Milano è fruttabilissima anche più avanti quindi è un peso facilissimo tipo i pantaloni di punto Milano li potete usare tranne proprio in estate però sono quasi 4 spagioni vedete che queste gogne sono proprio un po' sinuose diciamo che vanno a sottolineare quelle che sono le nostre curve curve ben gradite e che possiamo anche esporre contro il nostro giudizio esponete un pochettino che siete belle per favore questa gonna viene 46 euro e avrà uno sfonto del 20% ok? sia questa che la maglia che non mi ricordo il prezzo adesso abbandono il tacco e vi faccio vedere tutti i maglioncini che possiamo buttarci sopra trasformando come vi sto facendo vedere in questi giorni un look che può essere un po' serio, impegnativo o elegantino in qualcosa di un po' più piccio pratico veloce e anche sportivo sotto ho messo la famosa casimirezza che è scalda e che è molto importante per questi pesi perché quando voi avete un peso tipo questo punto Milano di questa maglia sotto se non avessi niente avrei veramente freddo mentre se mettete sotto la casimirezza è come indossare un maglioncino allora vi faccio vedere dei maglioncini da poter metterlo sulla vonna sono tutti i maglioni della flirt quindi moere lana 89 euro da scontare del 30 fa sempre 89 per 7 se potete sapete il prezzo che io adesso non so su 60 il 263 euro punto guardate questo è un maglioncino morbido collo V potete mettere sotto la casimirezza lo mettete con la vostra scarpa più comoda e indossate un colore un maglioncino che non segna troppo scende spiritoso e è facilissimo poi da indossare su altre cose ma è solo per farvi vedere come a volte una gonna che vi sembra un pochino impegnativa potete facilmente usarla oltre a questo maglioncino passo a farvi vedere quelli che sono i più cortini il mohair bellissimo sempre della flirt ha un punto di verde meraviglioso con davanti un decoro tono tono aspettate che tolgo i due schiali perché è troppo finissimo ok ok questo maglioncino un pochino più cortino guardate il spiritoso mettete con la vostra scarpa ginica il tappotone sopra lungo e diventa cosa prima di tutto caldissima un po' di tono un po' di colore però facile da mettere sta benissimo anche con un pantalone di calza oppure un bel jeans anche andiamo avanti un altro maglioncino molto carino è questo che vi faccio vedere rigato sempre con della lana all'interno un pochettino più slabrato come collo per chi non ama le cose troppo accollate colori caldi dal biscotto il verde lilla il panna e il marrone rimane morbido lunghetto anche questo vediamo addirittura i prezzi 59 42 euro 42 euro molto molto facile spiritoso e pratico adesso andiamo in quelli che ah questo qua è stupendo questo è l'ultimo maglioncino che mi è rimasto di pensione anche questo sul 59 euro da scontare tutto in discosa vi faccio vedere perché è stupendo indossato voi direte che io maglione nero no non è un semplice maglione nero perché quando è morbido non vi pizzica il collo non vi stringe troppo la gola e non vi dà fastidio e casca bene è un super maglione nero guardate allora così morbidissimo proprio morbidissimo collo bello giusto e casca qua si può mangiare bere però siete tutte nere elegantine checchine maglione nero che non fa mai male un maglione nero in più nell'armadio sto guardando se non lo metto tutto al contrario invece è giusto e anche questo ve lo consiglio se avete magari dei maglioni neri a volte mi dite qui ecco tutti i maglioni neri che sono tutti super usati perché in fondo il nero è la prima cosa che prendi quando non sai cosa metti anche quindi è quello più usato se avete bisogno di un cambio qui c'è 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 allora illuminiamoci illuminiamoci con qualcosa di scusate ma devo riporre bene il maglione se no sapitene che arriva passa al vescovo allora io starei sul bianco volevo farvi vedere tanto tanto color latte da poco è arrivato tensione in un voltino anche questo dopo vado a vedere il prezzo che non ne ricordo comunque è da scontare del 30% perché ho l'altro fuori logicamente direte ma sei normale sì l'altro è in vitrina allora tutti i bottoni gioiello caldissimo anche questo messo su una vonna sta benissimo non è troppo largo non è troppo lungo è un bel maglioncino potete metterci sotto una cacione retta una t-shirt bianca un top anche un top per lasciare i due bottoni lasciarlo un po' aperto vedo non vedo ma caldo sì caldo caldo sì caldo poi io adoro questo maglione giubbino questo è un maglione giubbino fico fico guardate che bello è questo maglione della flirt sportivo lo mettete anche su una gonna lo mettete sotto uno smanizzato se avete uno smanizzato di pelo è tutto lavorato con del bucle e tutte delle treccioni sapete che quest'anno proprio è l'anno delle treccioni è un bianco stupendo e guardate a me piace questa maglia dietro che è proprio la maglia quella lì da tazza anche qua la tazza del caffè fumante o il brodo di gallina quello che volete comunque basta che sia caldezio questo è da scontare anche questo del 30% veniva 149 euro quindi attorno al 100 euro se dovete fare anche un regalino o volete farvi un regalino poi c'è un semplice maglioncino disponibile anche mi pare nel colore ciclamino nel colore rosa da 36 euro da scontare qui 28 euro questo è un maglioncino semplicissimo viscosa non pizzica per le solite nostre clienti amanti del 100% viscosa ossia non avete problemi di prurito e vi faccio vedere le belle cinturine gioiello che ho preso da mettere anche sul nero sull'oro sul marrone queste sono tutte cinture gioiello vedete tutte piene di strass che a volte serve un punto luce per ravvivare i nostri abiti o i nostri look un po' scuri questo su base oro questa su base invece argento mentre questa proprio è una cinturina semplicissima con dei microstrass in oro rosa tutto attorno ai vediamo 14 euro mi pare 14 euro allora proseguiamo con il bianco questo è un giubbino della flotte che rimane indossato è neoprene ok qui davanti in fondo è finito tutto con del piumino e anche al collo con del piumino quindi vi fa da proprio scaldacollo rimane abbastanza rigido quindi segue la vostra forma ma fa questo giochetto alla fine che lo rende anche molto spiritoso copre bene il sedere veste benissimo un 44 46 vedete dentro anche come veste bene e come veste bene anche il giro manica se avesse voglia di qualcosa di un po' luminoso e come sapete il color avorio va quasi di più in inverno che in estate questa è un'ottima soluzione soprattutto per l'originalità e oltre a questo come originalità c'è anche questo piumino che veste un bel 42 44 che è un piumino non banale ossia è un piumino che indossato vi fa da cappottino perché voi vedete che è liscio davanti quindi non avete su proprio il piumino salamotto caldissimo antivento antiacqua termico è proprio molto molto caldo e tecnico come tessuto e dietro ci si gira e c'è proprio l'effetto piumino vedete che è un po' ciancratino non è troppo largo ha il suo cappuccio ed è veramente caldo questo è un pochino più lungo di quello che vi ho fatto vedere prima allora quello di prima veniva 197 da spuntare del 30 quindi su 140 euro e questo attorno al 100 euro spuntato poi andiamo avanti mi cambio così vi faccio vedere altre soluzioni allora mi metto un bel pantalone sono ritornati i pantaloni ad ovesto e vi faccio subito vedere indossati sono arrivate la taglia S la taglia M e la taglia L la taglia S nel grigio la taglia M nel color avorio siccome sono stati richiesti io li ho procurati adesso vi ripeto perché magari non sentite più allora uno e due il pantalone ovetto è arrivo 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 eccoci il pantalone ovetto è un pantalone che è piaciuto tantissimo come nuova forma come lo fanno e lo chiamiamo ovetto o banana hanno fatto sia il jeans che il pantalone il pantalone è punto milano vedete che scende morbido non è quel pantalone però che rigonfia tanto sopra un po' a vita alta elastico in vita molto comodo poi ha le sue tasche dietro ha le taschine adesso qua abbiamo anche l'etichetta vabbè e poi guardate che bello perché ha una lunghezza che sta benissimo con le starve anche basse con un mocassino potete metterci anche una sianellina con un tacchettino anche da 3 cm però vi fa sia l'effetto elegante se volete metterci il sacco altrimenti sta benissimo anche come sportivo infatti se voi indossate non so vi faccio vedere questo maglione poncio sopra che è appena arrivato in discosa con le frangette per chi non ha troppo freddo e ama sovrapporti i pesi tipo nel mio caso casmirezza potremmo metterla anche grigia sopra mettiamo questo poncio bellissimo che casca sopra il pantalone diventa una cosa mossa spiritosa con un modello diverso sono stati richiesti i pantaloni ovezzo perché prima di tutto sono comodissimi perché hanno l'elastico in grigia hanno una forma un po' nuova non sono un classico pantalone in sigaretta fasciante ma non è neanche il pantalone palazzo perché giustamente c'è chi ama ancora lo stretto c'è chi ama il palazzo il largo ma c'è chi ama anche la via di mezzo e questa via di mezzo bisogna cercarla e noi l'abbiamo trovata con questa soluzione quindi chi li stava cercando se vuole venire a provarli sono arrivati il peso è fantastico e a me piace molto proprio la lunghezza di dove arriva il pantalone non è neanche a toccare sappiate che io ho su una S ma con l'elastico veste bene poi c'è la M nel colore agoglio così bellissima perché ama è chiaro e la L nel colore nero così ho fatto le tre taglie da potervi presentare e provare questo maglincino è stupendo nel colore perché avevo voglia di colori anche un po' brillanti e viene anche questo 59 euro scontato 42 mi pare adesso andiamo avanti così vi faccio vedere tutto poi abbiamo allora questo cardigan vi faccio vedere anche le cose semplici che a volte magari voi cercate io non ve le faccio vedere e sono uno che sta guardate questo è uno dei cardigan più semplici ma più usati più rovinati del mondo perché quando lo cercate e poi lo usate lo mettete davvero con tutto è molto caldo molto morbido semplicissimo due tasche finito con la col portino con la maglina anche sul fondo e anche sopra la tasca è semplicissimo ha una bellissima misura però è il famoso cardigan passepartout che voi potete mettere davvero sopra il pantalone sopra un abitino vi copre se avete uno smanicato però scalda anche molto quindi magari a volte ve lo portate anche al lavoro se avete un po' di punti dove avete un po' freschino lo usate tipo copertina di Snoopy e poi è il primo che parte che mi dite che l'ho usato consumato viene 49 euro scontato 34 e sotto vi faccio addirittura vedere che bello questo abitino con questa fantasia jacquard grigio perla e nero io l'ho abbinato insieme ma è scaccabile sono tutte mie prove abitino lo potete mettere con un bello stivale alto con un trucchetto è salduccio potete usarlo anche al lavoro non è una cosa né scollata né importabile 59 euro scontato 40 euro andiamo avanti andiamo avanti io vi propongo anche oltre all'idea della gonna che vi ho fatto vedere prima che è questa gonna aderintina che segue un po' le forme sappiate che ci sarà molto anche il ritorno di uno stile ho visto un po' il golden globe guardo un'acqua e un'acqua e un'acqua e un'acqua e secondo me c'è il ritorno di uno stile delicato cioè si torna un pochino al taglio quello un po' più femminile alla semplicità e se cercate dei tubini in punto milano semplicissimi lunghezza lunghezza che può essere sempre accorciabile quelli della Flirt sono veramente belli anche questi sono scontati venivano 97 euro scontati attorno ai 70 euro bello semplice c'è sempre l'abito da tenere nell'armadio poi potete se volete accorciarlo se preferite altrimenti tenerlo come lunghezza allora altro bellissimo maglione che mi è appena rientrato è questo maglione in viscosa 77 euro da scontare sempre del 30% ha un colore che io definisco colore caffè non è né biscotto né biscotto bruciato ma è proprio coffee guardate che bello questo maglione ha questa manica larga particolare finita con i tre bottoncioni oro sia da una parte che dall'altra scende proprio dritto con i bottoni sia a destra che a destra sulla destra e vi volevo far vedere la la borsa che mi piaceva abbinarci questa è una borsa appena arrivata bellissima in pelle come martellata tre fatti all'interno rimane piazza questa catena può essere anche lasciata nel retro se volete oppure potete usarla proprio a tracolla così molto leggera molto capiente colore stupendo perché l'ho cercato quindi quando ricerco 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 le trovo per me il colore è stupendo perché non la volevo cuoio non la volevo troppo marrone ma volevo proprio questo colore che è un colore facilissimo da abbinare anche con gli avorio con il biscotto con tutti un po' i colori però un attimino più caldo con questa maglia sta benissimo la borsa vi stavo adesso vi faccio vedere giro tutto dall'altra parte vi faccio vedere tutte le borse nere che ho cercato perché mi avete richiesto le borse nere martellate da usare tutti i giorni non troppo grandi e non troppo piccole e io sono andata alla ricerca della borsa nera martellata da usare tutti i giorni non troppo grande non troppo piccole adesso ve le faccio vedere tutte ah altra cosa che volevo farvi vedere sono questi due capi stupendi qua parliamo proprio di qualità qua siamo sulla qualità ci sarà anche il ritorno della qualità grazie al cielo questi sono dei giacconi giacconi maglia pesante guardate che spettacolo guardate per chi è amante di questi capi che cos'è questo è un color coccio pulito semplice parla da solo manica che potete benissimo riportare ha le tasche tagliate ed è un signor cappottino questo qua perché si ama questo genere di cappotti ho tanti clienti che amano questo genere proprio collo alto pulito non ha nulla ma lo sentite proprio che scalda che è caldo ed è un capo un po' diverso dal solito è un'ottima occasione per venire perché anche questo è scontato del 30 viene a 119 sarà attorno secondo me a 80 euro ma fate voi dei conti 119 per 7 per 7 vado avanti l'altro capo che è bellissimo un pochino più secondo me sportivo è il fratello di quello che vi ho fatto vedere prima questo è un giubbino in maglia con la zip per chi ama invece le cose un po' più cortine meno fatte a cappottino che spettacolo è guardate come è finito guardate le finiture di questo di questo capo spettacolare spettacolare guardate che bello una bella sciarpona vediamo se riesco a trovare una bella sciarpona si ce l'ho ce l'ho la sciarpona bella dove l'avrei messa la lista non fa niente che la faccio vedere dopo perché adesso non la trovo è molto bella io so che ce l'ho ed è molto bella comunque questo è bellissimo viene 106 euro da scontare anche questo del 30% adesso giro tutto l'ambaradan rimarrò vedrete bloccata con la doppia cerniera invece no ah ultima cosa che volevo farvi vedere è questa tuta appena arrivata mi è piaciuta tantissimo perché è un colore brillante ed è composta se volete da tre pezzi oppure da quello che volete voi perché qua si fa quello che si vuole allora questa è una tuta guardate che bello il colore questo è da scontare del 36% 59% è scontato 40 euro 42 euro guardate che spettacolo dritta non troppo lata in maglia di scusa e sopra ci potete mettere o il suo fantastico meraviglioso maglione così questo viene 62% da scontare oppure il suo cardigan che bello è questo cardigan guardate che bello nei tre pezzi è spettacolare però potete anche spezzarle e metterla come volete questa è una signora tuta vedo tante i miei belle clienti che hanno iniziato a usare bene queste tutte logicamente non sportive ma sopra con il bel cappottino finite bene brave brave complimenti complimenti adesso mi metto gli occhiali e vado dall'altra parte per farvi vedere le borse eccoci qua allora partiamo con le borse che le borse che mi avete richiesto come sembra sembra ma non lo è ok che mi avete richiesto per tutti i giorni allora partiamo subito con la shopper quindi maxiborsa triangolare finita con un nodo in pelle che chiude la borsa spoderata grande capiente ma che scende quindi non vi dà quell'idea di borsa ingestibile del tipo oh mio dio ho preso una valigia no questa è una maxiborsa bellissima semplice vi veste una borsa così morbida più la usate più è bella e viene 57 euro dove ho scritto new è perché sono i nuovi arrivi e sarà scontata attorno ai 50 euro però avete una borsa in pelle nera che sarà sempre bella più la usate più è bella questa è nel nero poi vi faccio vedere quest'altra borsa secondo me è portabilissima sempre borsa capiente per tutti i giorni perché mi avete detto che dovete metterci dentro allora la borraccia poi la vostra bustina con dentro tutto ciò che vi serve a volte anche il food quindi un po' di cibo se rimanete fuori a mangiare insomma queste borsa devono fare i miracoli e ho cercato di trovarvele quindi questa borsa facilissima sempre leggera da portare a spalla bella spessa sotto e rigida sempre pelle martellata nera 66 euro scontata a 58 euro tutta in pelle nera altro modello il modello più semplice del mondo ma sempre molto gettonato è la famosa saponetta che è diventata una saponettona ossia diciamo la più grande tra queste tracolle vedete che è molto capiente spessa tracolla da allungare e anche questa qui è una borsa che contiene ciò che vi serve occhiali gli altri paesi occhiali gli occhiali da vicino gli occhiali da lontano gli occhiali da sole chiavi della macchina chiavi di casa cellulare tutti i documenti di tutta la famiglia tutta dal nonno la non la mamma il papà tutti gli avete tutti e qui dentro ci stanno anche questa viene 49 euro da scontare attento ai 40 questa è una borsa che ha dentro logicamente tutte alla tracolla questa è una borsa un attimino più definita più sostenuta con la sua filietta di apertura sia a destra che a sinistra potete tenerla anche a mano che fa molto anche elegante potete portarla anche di sera se dovete andare da qualche parte avere una borsa un po' più elegantina ma messa a tracolla è sfruttabilissima anche questa sopra un cappotto sopra il vostro piumino sopra il vostro giaccone montone ed è molto molto facile anche questa qua da portare 69 euro da scontare intorno ai 69 euro queste sono borse che sono veramente delle borse che non vi abbandoneranno mai cioè sarete stufe perché la borsa nera va sempre questi sono modelli comunque che ritornano sempre e non hanno loghi non hanno nulla quindi è una bella borsa nera in pelle a me è piaciuta tantissimo anche questa questa è bella anche lei allora mini shopper chiamiamola con impunture davanti manico più rigido da tenere a mano anche questa ha dentro la sua tracolla ma più una borsa a mano sia così che così perché non tutte vogliono una tracolla sono tutte dotate di tracolla all'interno ma molte proprio preferiscono la borsa a mano perché sono più pratiche anche questa è una bella borsa capiente vedete che ha la zip sopra sono tutte ben chiuse e se volete anche usare la tracolla basta mettere il suo gancino e ci stanno è una borsa un po' più costruita un po' più semirigida e anche questa viene 79 euro poi allora ho pensato ai gusti di pizza questa è una borsa con i manici medi perché a volte il manico corto è troppo corto il manico lungo è troppo lungo allora ho cercato il manico medio vedete questo è il manico medio proprio che non vi può dare fastidio ci passa giaccone pelliccia montone ci passa tutto è semplicissima anche quella questa scusate bella spetta sotto è con una dip centrale due bottoni laterali perché voi siete anche molto ordinate e io lo so avete tutti i vostri spazi perché partite al mattino e siete super organizzati sapete dove mettete questo dove mettete quello la porta è la vostra casa se state poi via dalla mattina alla sera è proprio la vostra casa e questa è una borsa praticissima semplice pulita non ha nulla di strano 74 euro da scontare anche questa in pelle poi abbiamo la classica borsa misura media adesso non guardate questo manico che è più corto ma dentro all'interno ha il manico più lungo la famosa borsa martellata in pelle nera con la pasta pasta e zip quindi non troppo piccola non troppo grande sta benissimo sia usata a spalla sia messa così a tracolla vedete che non è una borsa che vi disturba 67 euro e infine abbiamo lei la borsa più rigida questa è la borsa più rigida perché non ama che la sua borsa si schiacci da nessuna parte perché c'è chi adora proprio il fatto che abbiano una fustella rigida e che non si affloscino perché dà fastidio va bene ok allora due manici anche questa secondo me no questa non può essere messa a tracolla quindi solo a mano rigida bella semplice molto facile da usare da usare tutti i giorni vi fa anche questo qua molta borsa anche da ufficio da giorno ci sta dentro un po' di tutto e abbiamo anche di questa borsa il modellino più piccolo il modellino più piccolo nel colore questo stupendo amaranto rosso che è bellissima sto vedendo tante ragazze con queste borsettine a tracolla perché hanno anche la sua cinghia questa ad esempio veniva a 59 scontata a 40 euro ma è bellissimo il colore lo mettete col blu col grigio col marrone non è ciliegia ma è un colore amaranto molto molto bello anche questo in pelle vedete per farvi vedere la grandezza questa è proprio più grande questa è più piccina ma è molto facile da usare anche questa qua per chi esce di più magari la sera vuole mettere due o tre codine questa qua è proprio la borsa che ti accompagna durante il giorno allora intanto tolgo il telefono e vi faccio fare un giretto cucù ce la posso fare ce la posso fare allora il giretto per farvi vedere volevo farvi vedere anche questa borsa che per me è bellissima scontata del 30% 70 euro 49 tutta in pelle anche questa facile da indossare e capiente diciamo una via di mezzo tra queste due che vi ho fatto vedere nel rosso e quella nera poi volevo dirvi che mi sono arrivati i prodotti della talea quindi ricordiamoci sempre che la talea per il vostro viso per la cura della vostra pelle è un prodotto made in Italy con tecnologia italiana e ispirato alla cultura giapponese abbiamo tutto improntato sulla pulizia quindi molto importante chi ama struccarsi con l'olio chi ama struccarsi con gel detergente oppure con la schiuma poi passiamo al tonico che va tantissimo questo tonico 24 ore relax detox viso è un tonico che quando lo mettete fa proprio vi sentite che vi sveglia la pelle e vi chiude anche i pori potete usarlo anche la mattina per dare quella sferzata di di buongiorno alla vostra pelle poi passiamo e mettiamo il siero per le pelli un pochino più diciamo che ha bisogno di proteggere quindi questo siero ricalme protegge rinforza allenisce e rilassa la pelle del viso sopra mettiamo la sua crema che è in arrivo oppure abbiamo il segno il siero reage che è più detossinante energizzante e rigenerante con sopra la sua crema questa linea non basa nulla sull'età ma solo sull'esigenza della vostra pelle quindi tranquille è che siamo tutte giovini ok poi volevo farvi vedere invece per quanto riguarda i prodotti della casa tutte le nostre fragranze che stanno andando molto bene che abbiamo inserito a base di vaniglie e zenzero di tabacco e caffè mele e cannella iris et alcol gelsomino nobile questa fragranza che ho fatto per il Padre Cellar di Ome stra buona arancia cioccolata e rum se avete anche o metti o femminucce come me un po' invasati di questo sport potreste fargli un regalino poi abbiamo rum e sigaro oppio antico e cuoio e tecchio e poi in settimana o entro una settimana arriveranno tutte le forniture dei nostri profumi vi dico che ci saranno anche delle novità a febbraio quindi so che sarete pieni di profumi perché li avrete ricevuti a Natale ma so anche che li spruzzate tanto quindi sappiate che li stanno rifornendo poi per quanto riguarda invece Federico Cantelli vi dico che anche questo è indirittura d'arrivo e la fantastica liquirizia che è piaciuta tantissimo sta andando tantissimo ancora il fico fico latte di mandorla latte di cocco la pesca colosa e sappiate che se volete solo sapere com'è la fragranza venite qui e io ve la spruzzo e poi andate a farvi un bel giretto e vi annusate bene questi profumi un po' di nicchia mi stanno dando grandi soddisfazioni perché anche questi finalmente venite ve li fate spruzzare ponderate bene e scegliete il vostro profumo che a volte stupisce anche voi perché non ve lo sareste mai scelto quindi io vi invito a venire a fare un giretto venire a vedere anche tutte le occasioni che ci sono tutte le occasioni che ci sono che sono disponibili e venire a trovarmi sappiate che quest'anno ve lo ripeterò fino al giorno in cui lo realizzerò ho voglia anche di divertirmi con voi quindi organizzerò qualcosa organizzerò qualcosa perché vi sento cariche vi sento cariche quindi dobbiamo unire le nostre energie eccoci e adesso vi saluto vado a mangiare e vi do un bacione grande e vi aspetto presto ah non è vero volevo farvi vedere due cose se no me le dite dietro allora sono arrivate oh my god sono arrivate le t-shirt che cercavate in cotone maniche lunghe bel girocollo guardate bel girocollo cotone maniche lunghe della duda arrivata nera blu e bianca anche qui perché non tutti vogliono le casmirette ma c'è anche chi desidera il cotone ragazze io vi do un bacione vi saluto e venite anche solo a bere un coffee o a fare una cicciarada anche senza comprare chi se ne importa un bacione grande buona giornata ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti